Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo, nuovissimo vlog FLUSH Bene, allora ragazzi, sto praticamente portandomi già avanti per la valigia che sto sistemando già, selezionando cosa portare, le cose e poi sto andando avanti col cambio stagione sto ultimando, manca pochissime cose, ho fatto ancora un sacco di decluttering e ho preparato un borsone da donare, appunto, beneficenza in chiesa e nulla, sono letteralmente a pezzi, cioè sono a pezzi anche se piove e fa freddo, io ho un caldo e so donare a farmi una doccia non lo so, perché in realtà non sono sudata però vorrei farmi la doccia per rinfrescarmi perché fare il cambio stagione, ragazzi, è devastante in più preparare già tutte le cose per la partenza in modo che non arrivo all'ultimo, perché se no non ce la faccio cioè io parto stressata, mi viene l'ansia e quindi no, perché la valigia proprio è una cosa che odio fare invece di sfarla per lavare tutto, va bene, mi piace, ci metto proprio un attimo tiro fuori tutto, lavo tutto e nulla anche se separo le cose, quelle sporche, le metto nei sacchetti a parte il fatto che sono state comunque in valigia, una cosa e l'altra magari le utilizzo però diciamo che quello che rimane, la gran parte che poi non tanto quelle due o tre cose comunque le lavo lo stesso, ecco niente, noi ci vediamo con un vlog o una live ciao